Prima abbiamo parlato del ruolo delle radio indipendenti in una fase politica, sociale e culturale complessa che è quella che va da Genova in poi e proprio in questi vent'anni la questione del diritto d'autore probabilmente è diventata sempre più centrale, è diventata sempre più centrale perché si sono moltiplicati, nostra fortuna, i vari strumenti, network di comunicazione indipendente ma è anche vero che in questa fase c'è stato un cambio di paradigma da parte del capitalismo che ha messo sempre più a valore i dati, le informazioni e quindi anche la produzione di contenuti. Il diritto d'autore sappiamo che è una questione annosa che parte da lontano, negli ultimi anni con la liberalizzazione del diritto d'autore che c'è stata a livello europeo, citiamo la direttiva Barnier, sicuramente ci sono stati dei cambiamenti ma di fatto probabilmente rappresenta uno dei baluardi anzi l'emblea perché nasce per tutelare gli autori, chi produce contenuti ma di fatto è diventato lo scudo per le grandi produzioni, la grande industria discografica, intellettuale, editoriale e questo è sicuramente uno dei temi che vogliamo affrontare. Presento gli ospiti di stasera, Adriano Bonforti di Patamù, ciao Adriano Ciao, grazie mille Antonio, grazie Rado Sherwood e Francesca Gabriellini di Gemini Network, ciao Francesca Ciao, ciao a tutti e tutti, grazie per l'invito e io vi pongo subito una domanda perché soprattutto negli ultimi mesi il tema del diritto d'autore connettendosi a quello della proprietà intellettuale è diventato un tema nuovamente di dibattito pubblico non sulla questione specifica del diritto d'autore ma ad esempio ha riguardato la questione del brevetto sui vaccini questo ha comunque scatenato un dibattito importante ricordiamo anche che il VTO si è espresso negativamente rispetto alla liberalizzazione dei vaccini quanto questo dibattito può incidere sul proseguo di questa discussione annosa che stiamo avendo sulla questione del diritto d'autore Adriano inizierei da te ok, grazie mille la domanda è interessantissima, è gigante quindi non so bene diciamo che il problema allora, se lo prendiamo dal punto di vista dei brevetti che è sicuramente molto interessante in questo momento storico il problema è gigantesco nel senso che in realtà il dilemma è questo la produzione scientifica non viene realizzata in realtà dalle case farmaceutiche io in realtà sono il fondatore di Batamuma e il mio dottorato è in biomedicina quindi è una cosa che tocco con mano quotidianamente e diciamo la produzione scientifica nasce soprattutto da fondi pubblici quindi da la ricerca accademica addirittura tra l'altro per fare un piccolo spoiler anche nel caso della produzione dei vaccini per il coronavirus le stesse pharmaceuticals quindi AstraZeneca Pfizer eccetera eccetera hanno preso tantissimi fondi pubblici si tratta di miliardi di euro quindi in questo caso specifico non solo la ricerca arriva all'ultimo chilometro prima che si produca poi il vaccino o un altro diciamo farmaco ma lo stesso ultimo chilometro che di solito viene percorso dalle case farmaceutiche perché si tratta di testare farmaci che per la maggior parte delle volte non verranno portati in produzione perché ci sono molti test da fare molto spesso questi test non vengono superati ma anche quest'ultimo chilometro fatto dalle case farmaceutiche è comunque finanziato da fondi pubblici quindi il dilemma è gigantesco e si è aperto finalmente diciamo che già dieci anni fa era successo in India che l'India ha protestato perché c'era un farmaco della Novartis ho ritrovato un articolo che avevamo scritto su Patamut tanto tempo fa un farmaco che si chiamava Glivec che era un antitumorale e per cui la Novartis usava la pratica dell'evergreening cioè scaduti i vent'anni del brevetto cioè non basta il fatto che ci sia il brevetto e che dura vent'anni ma scaduti i vent'anni ci sono delle pratiche per magari modificare una parte della molecola che in realtà non è funzionale e su questa modifica di una parte non funzionale chiedere il rinnovamento del brevetto quindi arrivare a continuare a produrlo anche negli anni a proteggerlo per quello che riguarda la casa farmaceutica anche negli anni successivi l'India protestò produsse una versione del Glivec generica ci fu una causa con la Novartis che in realtà se non ricordo male l'India vinse cioè continuò a produrre per tutta la nazione indiana questo farmaco e anche questo farmaco diciamo open source e a esportarlo e non a caso anche oggi l'India è in prima come dire in prima in prima posizione in pole position mi pare insieme al Sudafrica per chiedere che ci sia questa moratoria sui brevetti quindi in realtà potremmo approfondire lascio la parola a Francesca ma una cosa molto interessante per aprire il dibattito è il fatto che finalmente anche stati super capitalisti come gli Stati Uniti abbiano iniziato a dire beh forse in alcuni casi il bene comune è più importante del profitto e una moratoria sui vaccini sarebbe adatta questo ci riporta anche all'incontro che avete fatto prima sul diciamo su Genova sul G8 su quanto come dire sia stato lungimirante quelle proteste fatte dai movimenti in cui si sono proposti dei modelli di mondo che adesso allora sembravano irrealizzabili per il mainstream e adesso invece si vede che forse sono l'unica opportunità possibile e quindi ecco sì c'è questa questione dei brevetti che sinceramente spero che possa portare a far capire che il diritto d'autore può avere un senso in certi contesti soprattutto però in un'ottica critic commons per esempio cioè poter dire chi ha scritto qualcosa ma anche in un'ottica di condivisione di apertura un ripensamento del diritto d'autore organico che possa essere anche come dire un riattraversamento del pensiero di cosa vuol dire produrre un medicinale quali sono gli interessi che vanno salvaguardati per quale motivo come dire va salvaguardato solo l'interesse dell'ultimo chilometro senza rendersi conto che in realtà la maggior parte della produzione pubblica è anche iniziarsi a chiedere se forse non si possono fare delle case farmaceutiche come dire no profit gigantesche che vengano finanziate dall'Unione Europea e così via e che in qualche modo vadano a risolvere il problema del brevetto anche perché non c'è più questo grande interesse commerciale per esempio così per dare degli spunti perché in realtà è un mondo enorme ti ringrazio Adriano perché mi permette bene il tuo gancio ultimo perché credo che parlare come si è parlato in questi ultimi tempi di proprietà intellettuale dunque anche di diritto d'autore magari poi dopo entreremo più nello specifico del nostro specifico penso che imponga l'attenzione di tutte e di tutti la necessità di risignificare che cosa significa appunto valorizzare la proprietà intellettuale e non valorizzare nel senso appunto economico del termine ma proprio quello della tutela quello della della restituzione della collettivizzazione e non quello del profitto no profit on pandemic è stata una campagna molto pervasiva negli ultimi tempi penso che sia importante ricordarlo immagino che tutte e tutte ci siamo fermati a un banchetto siamo andati sul sul sito a informarci abbiamo firmato la petizione che la campagna appunto ha portato in tutta Italia e a livello globale perché appunto interrogarci sui brevetti nella specifica contingenza della pandemia globale ci ha rimesso all'attenzione e tu dicevi perfettamente in continuità col dibattito di prima rispetto ai temi che hanno attraversato le piazze di Genova ci ha riportato all'attenzione il tema della salute come bene comune quindi credo che sia stato importante avere animato quelle piazze quei momenti informativi soprattutto rispetto alla necessità di non lasciarci scappare quest'occasione per tornare a parlare di disuguaglianze tra nord e sud del mondo anche perché comunque assistiamo al fatto che in qualche modo prima di andare a vaccinare i paesi del sud del mondo c'è in qualche modo una sorta lista d'attesa prima si deve vaccinare il nord del mondo ecco ci ha riportato all'attenzione quanto si debba appunto mettere l'occhio di bue mettere il focus su ciò che la pandemia ci restituisce in termini di disuguaglianze di impoverimento generale e di bene comune di collettivizzazione di accesso libero e gratuito alla cura cura è stato un termine che abbiamo utilizzato tantissimo in questo periodo e che è stato anche ripoliticizzato e penso che siamo ben contenti e contenti di questo ecco per quanto riguarda appunto il dibattito che si è aperto credo possa essere un'occasione un'occasione anche per noi per utilizzarlo come grimaldello per riportarlo su tanti temi che per noi sono importanti e la salute sicuramente lo è stato sopra ogni cosa in questo periodo quindi continuare a continuare a parlare per esempio della sperimentazione che sta facendo un paese come Cuba con Soberana dobbiamo continuare a parlare di salute e di cura e andare a risignificare tutti quegli ambiti in cui ci sentiamo come dire oppressi in qualche modo esautorati dall'esistenza di monopoli di monopoli che prendono forme diverse e che prendono forma si vanno a modellare su tanti ambiti della nostra azione politica e della nostra vita quotidiana su cui appunto come comunità politica ma banalmente forse non troppo banalmente come cittadini e cittadini ci dobbiamo interrogare e grazie a Francesca e Adriano entriamo un po' nel merito della questione del diritto d'autore 6-7 anni fa nel 2014 in Europa c'è un po' questo scossone la direttiva Barnier che di fatto ha come obiettivo quello di liberalizzare il diritto d'autore una direttiva molto controversa però era stata ricordo all'epoca anche salutata con un certo quanto meno con rispetto dopo anni in cui si erano fatte battaglie in Italia legittime contro la CIA in realtà però dentro a mio avviso una dimensione in cui quello che conta non sono le leggi ma sono poi i rapporti di forza che producono realmente poi una materialità di come vanno le cose in Italia ad esempio questa direttiva Barnier apre a un duopolio sia sound riff bene dentro questo scenario secondo voi che cosa è cambiato e quali possono essere le aspettative e le pratiche perché poi quello che ci interessa sono le pratiche per il presente e per il futuro allora grazie per la domanda Antonio mi preme dire due cose di carattere personal politico tante delle persone che ho conosciuto nell'esperienza di Gemini Network le conoscevo già prima e ci siamo proprio incontrate incontrati parlando di proprietà intellettuale di diritto d'autore in tanti tavoli tematici che proprio nella breve stagione diciamo delle lotte per i beni comuni che hanno portato alla liberazione di tanti spazi in tutta Italia insomma là dentro il dibattito era molto forte e ricordo distintamente che con la radio indipendente di cui ho fatto parte per tanto tempo che è Radio Aurora a Pisa nel 2013 sferravamo tra virgolette il nostro piccolo attacco al monopolio SIAE producendo un vinile completamente SIAE free era stato il nostro modo per dire esiste può esistere un rapporto tra artisti e mediatori tutti gli operatori del settore che concorrono alla produzione appunto di un prodotto artistico che possa viaggiare su canali di vera autoproduzione e anche di autodistribuzione in qualche modo per cui andammo a comporre questo LP favorendo facilitando il fatto che gli artisti donassero all'associazione insomma di Radio Aurora il loro brano affinché poi ovviamente l'abbiamo distribuito attraverso circuiti non tradizionali non conformi e per noi era stata una piccola completamente autofinanzato in crowdfunding facevamo anche quel tipo di sperimentazione che sul tema della proprietà intellettuale credo sia importante perché poi anche come ci si sostiene in questa lotta è importante quindi la portammo avanti squisitamente dal basso ecco nel 2014 appena venne approvata questa riforma inizialmente proprio subito subito cantammo vittoria pensavamo che fosse comunque si aprisse un'opportunità si aprisse un nuovo scenario e invece abbiamo visto che è andata un po' che è andata un po' diversamente o comunque il fenomeno del riassorbimento all'interno del sistema produttivo comunque di industria culturale sempre si parla era stato subitaneo peraltro l'esperienza di Patamu io ne sono venuta a conoscenza proprio nel 2014 a Borderline il festival delle radio indipendenti a Ferrara che anche con la città di Ferrara avevamo tessuto dei rapporti importanti ma ora al di là delle biografie però a volte sono importanti perché riconnettersi con una storia delle lotte che si fanno una piccola genealogia è sempre utile è sempre importante credo che il tema che ponevi tu Antonio a conclusione dello scorso del dibattito che ci ha preceduti sia il tema cioè come produciamo noi non solo vertenza ma ancora prima organizzazione attorno a questi temi Gemini Network sicuramente si sta interrogando profondamente anche tra di noi proprio perché le realtà che compongono il network sono molto variegate non abbiamo paura a dircelo perché ce lo siamo detti tante volte tante delle realtà di Gemini Network si trovano in qualche modo costrette o comunque non esiste al momento una via alternativa realmente praticabile a compilare i bordero a pagare la CIA eccetera eccetera però questo per noi non è come dire non è sufficiente a pensare che il problema allora debba essere messo sotto il tappeto taciuto o sorvolato stiamo cercando anche noi siamo in un cammino che vogliamo che ci porti a a creare nuovamente vertenza e organizzazione probabilmente riaprire degli spazi come questo diffusi a partire dalle nostre radio nello specifico e andando ad investire tanti spazi tante realtà proprio sul sul tema della condivisione dello sharing knowledge che tanto ha animato appunto le lotte per i beni comuni penso che sia qualcosa che si possa fare penso che tanti e tanti di noi vantino appunto anni di riflessione ci chiamiamo lo ricordo per magari chi ci sta ascoltando noi ci chiamiamo Gemini Network nel caloroso ricordo di Corrado Gemini che con il network control con i tavoli tematici a Macao e in tantissimi altri spazi insomma si interrogava su quale può essere l'opportunità di una rete che sferri un attacco forte al monopolio della proprietà intellettuale quindi ecco è un fuoco che arde che continua ad animarci penso che moltiplicare questi momenti di confronto e conoscere quelle realtà seppur piccole seppur ancora in fase di start up o anche che nel tempo si sono consolidate ma insomma sarebbero ancora più forti se ci unissimo tutti ecco che possono rappresentare una una rottura del duopolio dei monopoli eccetera penso che riconnetterci fare rete e tornare a parlare di conoscenza più in generale come bene comune per quanto possa essere anche un espediente narrativo in prima battuta penso che sia importante perché ci sono tantissimi e tantissime giovani nei nostri spazi nelle nostre città che magari non si interrogano fruiscono ed è legittimo che sia così ma noi possiamo portare il tema e portare sempre più persone a interrogarci con noi e io non ho niente da aggiungere no però grazie Francesca perché lo spunto è meraviglioso e anche diciamo ricordando Corrado e Control tutti tutti gli incontri a Macao e tutto il resto d'Italia diciamo che sì la Barnier si è tradotta attualmente in un duopolio in Italia e peraltro non è neanche stata completamente recepita cioè è uscita nel 2014 è stata recepita nel 2016 quindi ci hanno messo due anni a recepirla che è già una e in Inghilterra l'hanno recepita istantaneamente e va bene però qual è la cosa interessante di questo duopolio che il modello il motivo per cui si è creato il duopolio è lo stesso motivo per cui si è creato questo oligopolio delle case farmaceutiche cioè il problema è che in questo momento il modello di finanziamento dell'innovazione passa per come dire la costruzione di imprese o imprese gigantesche cioè non c'è una grande capacità del sistema di finanziare chi ti viene a dire ma noi vogliamo fare una no profit che gestisce e che gestisca il diritto d'autore noi vogliamo fare una una gigantesca no profit che produca farmaci e loro ti dico ma ma tu sei pazzo ma noi non ti possiamo mica dare che ne so 5 miliardi di euro per fare una no profit per i farmaci però poi assurdamente a Pfizer ne arrivano 20 di miliardi di euro di finanziamento pubblico quindi ci vorrebbe un po' di coraggio ma anche facendo un altro esempio che con la musica ovviamente c'entra tantissimo Spotify Spotify in qualche modo ha fatto disruption come si dice nel sistema permettendo più liberamente di pubblicare musica però qual è il problema che essendo stata finanziata col tipico modello dei venture capitalist che ti danno un milione di euro poi 100 milioni di euro poi 500 milioni di euro poi quando tu inizi a effettivamente arrivare a livello globale alle orecchie di tutte e tutti e ad avere artisti da tutto il mondo i venture capitalist vengono a battere casa e ti dicono senti tu forse vorresti pure far sì che adesso rientrino i giusti proventi a chi produce suona musica però ci siamo noi che ti abbiamo dato 500 milioni di euro quindi ci devi ridare a noi 10 volte di più e quindi si creano poi queste disparità per cui a chi ha fatto a chi ha creato non arriva nulla quindi andrebbe ripensato il sistema e ci vuole un grande coraggio da parte delle istituzioni perché ancora oggi l'Unione Europea le regioni le province vanno a finanziare molto spesso con risorse più sostanziose chi si incanala nella direzione dell'impresa noi stessi siamo diventati impresa con Patamu adesso c'è un pezzo di Patamu che si sta sganciando Patamu for Arts APS la parte di Patamu Legal rientrerà sotto quel cappello cioè ci stiamo ritornando nei binari che più ci interessano però è chiaro che i finanziamenti ti spingono in una direzione specifica quindi sia per le pharmaceuticals che per diciamo le società di collecting emergono realtà di impresa a questo punto però lancio uno spunto perché noi tempo fa abbiamo creato una no profit dedicata alla gestione del diritto d'autore che si chiama in questo momento ma si può cambiare il nome insieme si chiama AER allora la mia proposta è perché con tutto il circuito Gemini non riprendiamo anche Control AER e creiamo insieme collaborativamente è una fatica gigantesca quindi ci dobbiamo pensare però si potrebbe provare a scardinare questo duopolio e cercare in qualche modo di proporre un modello terzo perché come dire come nicchia la possibilità c'è tutta cioè di dire a chi fa arte alle artiste agli artisti a chi fa musica a chi fa anche altri tipi di arte ovviamente non stiamo parlando solo di musica proviamo a costruire insieme anche con voi una realtà che raccolga questi diritti d'autore ma che non abbia uno scopo di lucro dietro non abbia degli investitori dietro e cerchi quindi di ridistribuire in modo come dire diretto le stesse entrate e nel mentre potremmo anche reimmaginare cosa vuol dire in questo caso diritto d'autore che è un altro tema gigantesco ma tu prima accennavi reinventare il concetto di proprietà intellettuale sono d'accordo sì e grazie per lo spunto Adriano io te la rilancio questa cosa qua perché sicuramente interessante oggi ne parliamo in una cornice importante perché comunque il festival di Sherwood è una cornice dove spesso abbiamo affrontato e spesso viviamo anche la questione del diritto d'autore con il rapporto con le band con chi fa musica con la questione della produzione di eventi culturali che è un tema a mio avviso importantissimo e quindi te la rilancio questa cosa visto che qua a Padova faremo il prossimo Gemini Network a questo punto proviamo a ragionarci su una proposta che magari coinvolga altri soggetti altre realtà che sia realmente appunto che riesca a fare breccia che sia un'alternativa una pratica concreta vi faccio l'ultima domanda Adriano hai parlato molto di anche l'ultima proposta che facevi della questione di provare a costruire un'idea anche di impresa sociale che siano profit e questo è un tema a mio avviso questa cosa è interessante nel momento in cui si lega poi a campagne sul reddito perché in qualche modo poi dovremmo dobbiamo cercare di 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 guadagnare di vivere e quindi a mio avviso le due cose sono molto sono molto intrecciate e Francesca accennava a quella grande stagione di lotte sui beni comuni non solamente beni comuni materiali ma anche sulla questione immateriale bene io credo che ci sia una questione a mio avviso da da tematizzare e da politicizzare che sia il rapporto tra la produzione la distribuzione e la fruizione questa cosa non può essere a mio avviso vissuta il tema del diritto dottore non possiamo viverlo per compartimenti stanni ma dobbiamo metterlo all'interno di una filiera e poi la filiera del capitalismo è chiaro che poi la si apre tutto un mondo però io penso che sia questo un po' il tema provare e la proposta che facevi tu è interessante per questo a ragionare su quest'ottica produzione distribuzione fruizione un'ultima battuta e poi ci salutiamo la rigenerazione dell'intera filiera cioè il tema è quello il tema è quello perché il problema la questione è sistemica ed è giusti cioè lo spunto è centratissimo io da lavoratrice dello spettacolo ogni giorno vivo sulla mia pelle come tutte e tutti quelli che lavorano nell'ambito che cosa significhi vedere la produzione di un evento live a cura diciamo dei grandi operatori del settore e come dire molto banalmente i business plan si leggono in maniera molto semplice ci sono 20 operatori che si occupano di piccolissimi frammenti della messa della messa in opera dell'evento con lo scarico dei costi sociali tutto ovviamente sulle lavoratrici e sui lavoratori e stiamo parlando comunque di un settore è quello di cui posso parlare in prima persona ma comunque ripeto il problema è sistemico cercare di rigenerare la filiera a cui tu Antonio facevi riferimento significa portare avanti le nostre campagne sul reddito di base sul salario minimo sui diritti sui luoghi di lavoro sulla sicurezza vuol dire ripartire esattamente dalle nostre lotte quelle che caratterizzano in maniera più viscerale la nostra comunità la nostra comunità politica e in questo caso appunto sulla scia di questa ritrovata auge possiamo dire della proprietà intellettuale che ha tanto appunto caratterizzato il dibattito per quel che riguarda la salute può esserci d'aiuto per tornare esattamente a casa e con casa intendo la nostra casa delle lotte perché è in questo sistema che dobbiamo agire per cercare di ridisegnare un pezzo di futuro più contagioso possibile mettiamola così e sicuramente un altro occhio di bue importante è stato posto sul vasto mondo delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo che a vario titolo si sono hanno preso parola eccetera bisognerebbe avere appunto il coraggio di dire che su questo si deve continuare a martellare cercando di far prendere parola a tutti questi attori in campo di questo di questo di disastro sociale che ha afflitto tutto il sistema produttivo e il mondo della produzione culturale con grande importanza che ci sono delle voci che ancora non si sono levate e sono esattamente quelle che poi tengono in riproduzione il sistema inquinato di cui stavamo parlando quindi dalla produzione alla distribuzione fino poi a una fruizione che diventa acritica se non si ricostruisce qual è la dinamica se non si racconta qual è la dinamica è difficile aggiungere qualcosa diciamo che va bene lo affronto da un altro punto di vista pur essendo appunto totalmente d'accordo sono d'accordo che è una questione sistemica per fare un esempio nella produzione scientifica abbiamo un'altra situazione in cui ci ritroviamo con lo stesso problema cioè la produzione scientifica non è intanto non è controllata da chi la scienza la fa ma è controllata da queste grandissime case editrici tra l'altro c'è un altro problema con cui poi mi riaggancio invece a quello che dicevi te che è la biodiversità cioè è a quello che dicevi te la produzione la fruizione bisogna lavorare in una direzione della biodiversità anche nella scienza non c'è biodiversità cioè il fatto che ci sia questo controllo da parte delle case editrici di cosa si pubblica e cosa no e soprattutto del fatto che solo pubblicando ci si costruisce diciamo una carriera nel mondo della scienza solo pubblicando in quelle riviste quelle riviste poi scelgono cosa il mondo scientifico deve produrre e deve ascoltare immagino che non sia troppo diverso da altri mondi compreso il mondo della musica ma sempre dell'arte in senso lato dico musica perché è quello che forse conosco un po' di più dove anche lì la biodiversità esiste è sotto traccia ma non viene né prodotta abbastanza né fruita abbastanza quindi e tra l'altro la non fruizione della biodiversità crea un atteggiamento appunto più acritico come dicevi come diceva Francesca quindi però c'è un'opportunità gigantesca cioè 20 anni fa si è immaginato un mondo nuovo adesso si è capito che questo mondo è effettivamente realizzabile e non è nell'interesse di pochi ma nell'interesse di tutti questo si sapeva già prima ma non lo sapevano i tutti e le tutte che come dire abitano questo mondo erano in pochi 20 anni fa a dire guardate che è l'interesse di tutti noi creare questo nuovo mondo adesso proprio con la questione anche della del vaccino che in qualche modo ha aperto un po' gli occhi sul fatto che il bene comune è un qualcosa di importante io credo che fra 20 anni questo mondo possa effettivamente essere realizzato quindi bisogna adesso creare questi nuovi modelli come dicevi anche te Antonio pensando al reddito perché no profit assolutamente non può significare come dire non poter mantenere la propria famiglia i propri cari bisogna che sia un modello di sostenibilità ma in realtà credo che sia assolutamente possibile e quindi appunto nella scienza reimmaginare un sistema di produzione scientifico in cui comunque non si deve delegare a queste case editrici la scelta di cosa si produce nel mondo dell'arte creare un modello è quello lo immagineremo a Padova anche ascoltando diciamo tutte le sperimentazioni che immagino esistono a livello globale come si possono creare questi nuovi modelli ma credo sinceramente mentre vent'anni fa quando vedevo le immagini purtroppo voi vedevate Rai 2 io ho visto Rai 4 è stata una cosa di una tristezza sconvolgente però ecco all'epoca ero molto pessimista invece penso adesso che si possa fare si possa rimaginare questi modelli mettendo al centro il reddito mettendo al centro anche in qualche modo dei modelli nuovi anche di cosa vuol dire non solo proprietà intellettuale ma anche il profitto il profitto forse della comunità e il profitto non è solo economico probabilmente è anche un profitto culturale non so neanche se il profitto sia la parola giusta però insomma la sostenibilità esatto quindi sì insomma io raccolgo l'invito perché mi sembra emozionante questa cosa quindi ti lasciamo alle conclusioni e continueremo intanto grazie Adriano a mio avviso davvero intenso il dibattito che lascia degli spunti di riflessione che a mio avviso vanno raccolti poi noi viviamo ogni giorno quotidianamente dentro i nostri spazi i nostri spazi sociali i nostri spazi occupati o comunque dentro una una dimensione in cui vogliamo costruire costantemente spazio pubblico e questa cosa che ci stiamo dicendo stasera è fondamentale perché è un anello che spesso manca spesso viene considerato secondario o quantomeno viene relegato a una discussione di carattere giuridico io invece credo sono convinto che sia una discussione estremamente politica come abbiamo dimostrato questa sera l'invito ovviamente è a quello di costruire reti di fare di fare reti di politicizzare queste reti di organizzarle Gemini Network è sicuramente un esempio ce ne sono altri raccogliamo quello che ci dicevamo stasera proviamo a rilanciarlo ci vediamo a novembre ottobre per un appuntamento per il prossimo per il secondo appuntamento del festival di Gemini Network e proseguiamo assolutamente speranzosi questa discussione grazie ancora Adriano e Francesca e buona continuazione di serata grazie ovviamente a chi ha curato la parte tecnica grazie a Gemini Network e Radio Sherwood potrete sicuramente riascoltare rileggere quello che abbiamo detto questa sera sia su Gemini Network che su Sherwood che sul portale globalproject.info grazie e buona serata